Oggi vorrei condividere con voi un percorso personale che ha profondamente influenzato la direzione del mio lavoro attuale. Come molti sanno, il mio progetto iniziale era quello di realizzare un videodocumentario sul Cenacolo di Leonardo da Vinci, che è un'opera che mi ha sempre affascinato sia per la sua complessità simbolica che per la ricchezza di significati nascosti. Avevo già accennato più volte alla mia volontà di portare questo progetto alla vita attraverso il linguaggio visivo, convinto che solo un documentario potesse catturare e trasmettere l'intensità e la profondità di questa mia interpretazione e visione del Cenacolo. Tuttavia il cammino si è rivelato più tortuoso del previsto. In questo momento storico collaborare con un videomaker o con programmatori si è dimostrato un compito complesso, non tanto per le competenze tecniche, di cui molti sono sicuramente dotati, ma per una questione più sottile, più profonda. Quelli che ho incontrato io, parte di quelli che ho incontrato io, e ci tengo a precisare che non voglio generalizzare né accusare l'intera categoria, sembrano spesso mancare di una connessione emotiva e intellettuale con i progetti che realizzano. Non sono passati da un percorso accademico che li ha formati a un amore profondo per i contenuti che producono. Al contrario, sembra che per molti di loro il lavoro sia proprio solo un esercizio di tecnica, una vera e propria passione per la tecnica. mi sono trovato a collaborare con persone probabilmente bravissime a fare video rap e contenuti che richiedono una grande abilità tecnica, ma che purtroppo non riuscivano a innamorarsi di un progetto carico di storia, di simbolismo e di introspezione. Questo mi ha portato a riflettere su una questione fondamentale, cioè il mio desiderio di non dipendere da nessuno per la realizzazione di questa visione. E se l'unico mezzo che ho a disposizione per divulgare la mia interpretazione del Cenacolo non può essere visivo, allora lo farò attraverso la parola scritta. E qui entra in gioco un altro fattore determinante. L'entusiasmo e i complimenti che ho ricevuto da voi per l'episodio 184 del podcast e vi ringrazio infinitamente, in cui ho esplorato i misteri del Cenacolo di Leonardo. Questo interesse vostro, parole di apprezzamento, le discussioni che sono nate in seguito mi hanno profondamente ispirato e stimolato a trasmettere quelle riflessioni in un'opera più ampia e strutturata che già era dentro di me. È stato il vostro entusiasmo, quindi a farmi capire che c'era molto di più da dire, che questo viaggio non poteva fermarsi a un singolo episodio, ma doveva proseguire evolvendosi in qualcosa di più duratura e tangibile, e quindi un libro. E così, con il cuore colmo di ispirazione e la mente guidata dal desiderio di condividere con voi questa visione, ho deciso di strutturare il libro in modo da offrire un viaggio che è tanto intellettuale quanto esoterico, un vero e proprio cammino tra le stelle e i segreti dell'animo umano. Il libro si dipana attraverso capitoli che esplorano le profondità della simbologia astrologica nascosta nel Cenacolo, dove ogni apostolo sembra incarnare non solo una figura storica, ma anche un archetipo universale, una forza cosmica riflessa nel microcosmo dell'animo umano. Homo est speculum universi, cioè l'uomo è lo specchio dell'universo, e in questo riflesso si c'era la chiave per comprendere l'armonia che Leonardo ha cercato di imprimere nella sua opera. Ho voluto anche approfondire il legame tra arte, scienza e misticismo, seguendo le orme dei grandi pensatori del passato, dalla Pitagora al Parco di Nicea, cercando comunque di svelare come Leonardo, con la sua mente rinascimentale, abbia intrecciato questi fili per creare un'opera che non è solo visione, ma è conoscenza, sapienti ad misterio. Tra i capitoli esploro l'influenza dei numeri, quindi della sezione aurea, la divina proporzione che governa l'ordine delle cose, come questa si rifletta nelle composizioni di Leonardo, non solo come strumento di bellezza, ma come un linguaggio segreto che connette il visibile all'invisibile, il terreno dal celeste, il concetto dell'omnia vincit numerus, cioè i numeri governano tutte le cose, e in questa legge universale si cela l'intuizione di un artista che ha saputo unire scienza e arte in un unico respiro. Scrivere questo libro, che tra l'altro ho finito, devo solo ancora fare una revisione, anche qui farò tutto da me, per cui serve tempo, è stato sicuramente un atto di indipendenza creativa, un modo per portare avanti il mio progetto senza compromessi, restando fedele alla mia visione. Credo fermamente che nonostante i limiti imposti dalla mancanza di immagini, le parole abbiano un potere straordinario, esse, diciamo, possono trasportarci attraverso i secoli, permettendoci di esplorare le stanze segrete dell'animo umano e di scoprire verità che altrimenti rimarrebbero celate. Il libro che ho scritto non è solo una spiegazione, ma un viaggio che spero vogliate intraprendere insieme a me. Vi ringrazio per il vostro continuo supporto, per l'interesse che dimostrate verso i miei progetti, verso il podcast. Spero, quando uscirà il libro, che la lettura vi possa offrire, per chi sarà interessato, la stessa ispirazione, lo stesso piacere che ho provato io nello scriverlo. E chissà, forse un giorno questo progetto, magari vedrà anche la luce sotto forma di un documentario, ma per ora sono felice di poterlo condividere con voi attraverso la scrittura. Grazie per il sostegno e grazie per l'ascolto.